Marco Pili, Sales Director ITS e Robotics, Equision Italy. Ci troviamo in questa splendida giornata di sole qui a Genova, alla primissima tappa del tour di Equision sull'intelligenza artificiale. Quali sono le applicazioni dell'intelligenza artificiale negli ITS e quali i vantaggi? Oggi Equision presenta a Rochow una parte della sua gamma prodotti che è quella dedicata alle applicazioni sul traffico. Portiamo dalla Cina un'esperienza già maturata nel mercato europeo e nello specifico per quello che ci riguarda in Italia con una serie di prodotti che sfruttano il deep learning per fare delle analisi per quanto riguarda il traffico. Cosa vuol dire? Vuol dire che una telecamera come la conosciamo già di lettura targa oltre a fornirci questa informazione può leggere una serie di dati del contesto in cui viene installata per cui ci permette di acquisire oltre al numero di targa delle informazioni riguardo al veicolo quindi la classificazione, il colore, il brand, la velocità e addirittura arrivare anche a riprendere il guidatore e consentirne eventualmente un'identificazione. Benissimo. Quali i targets più interessanti per questo tipo di tecnologia e come possono sfruttare al meglio le molte possibilità date dal deep learning? Il target di riferimento sono le pubbliche amministrazioni e le aziende di trasporto. Il modo che hanno di sfruttare questo tipo di tecnologia è quello di poter acquisire dei dati in maniera più precisa, più accurata del contesto in cui vengono fatte le riprese. Dicevo prima, una ripresa di una targa, una ripresa di un veicolo di cui io conosco la direzione, conosco alcune caratteristiche quindi un brand, un colore, posso arrivare a identificare anche l'identità del guidatore tutto questo mi permette di poter incrociare dei dati dei vari dispositivi collocati lungo il percorso e quindi riuscire in tempo reale a verificare quelli che possono essere i comportamenti o verificare quelle che possono essere le traiettorie e intervenire in maniera predittiva su quello che può avvenire all'interno della città. Quindi possiamo immaginare per degli scopi di intelligence poter captare per tempo il traffico di determinati veicoli come possono essere dei furgoni che transitano in delle aree che in quel momento per un particolare magari evento sono chiuse al traffico posso sapere appunto tutte le informazioni di questo veicolo dove si sta spostando, con quale velocità e quindi lo posso intercettare in maniera molto efficace. Quindi con questo concetto di deep learning nell'ambito dell'intelligenza artificiale si aprono tantissime porte? Esattamente, la differenza rispetto a ieri è che col deep learning la telecamera lavora esattamente come il nostro cervello quindi in grado una volta che è inserita nel suo contesto di mantenere un livello costante di apprendimento quindi non è una telecamera che ha un'analisi che è già stata preconfigurata ma cambia e si aggiorna e si arricchisce nel tempo quindi se nascono delle nuove esigenze in termini di indagine la telecamera può fornire dei dati sempre più precisi e conformi a quello che è l'ambiente in cui è installata. Quindi una chiara risposta anche a future esigenze. Certamente, questo è un grosso vantaggio perché la telecamera in questo caso che fa analisi di traffico può riconoscere dei veicoli faccio un esempio, abbiamo parlato di marca modello dell'auto ovviamente nel tempo cambiano, arrivano nuovi modelli arrivano nuove tipologie di veicoli quindi la telecamera è in grado di riconoscere questi cambiamenti nel tempo e quindi poter rimanere sempre aggiornata.